Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti in questo nuovo video su Destiny nel casato dei lupi dove andremo a vedere come completare la seconda delle due nuove taglie di caccia di Petra Venge sull'Atollo. Il nostro bersaglio sarà un messaggero dell'Ethere, ossia un servitore maggiore quindi con la vita gialla che si potrà trovare presso i passi infiniti, ossia l'area di gioco dove nelle missioni della storia si dovrà uccidere il guardia porta. Per poterla raggiungere quindi, spawnate nella pattuglia di Venere, andate destra o sinistra, veramente non farà differenza, e proseguite finché non raggiungete la volta di vetro. Una volta in quest'area cercate il varco esattamente come vedrete nel video e proseguite lungo la vostra strada. Vi sembreranno paesaggi molto familiari perché comunque missioni della storia intere sono state giocate in quest'area di gioco, quindi tranquilli saprete orientarvi. Una volta raggiunta l'immensa area dove appunto avrete ucciso il guardia porta, ignorate tutti i nemici e dirigetevi presso l'angolo estremo della mappa. In quest'angolo di mondo, letteralmente, che probabilmente il 90% dei guardiani non ha nemmeno mai notato. Qui troverete alcuni dei caduti appartenenti al casato dei lupi e troverete pure il boss, il mini boss per meglio dire da uccidere, ossia il messaggero dell'Ethere. Una volta ucciso potrete tornare da Petravenger sulla tollo e riscattare la vostra ricompensa, ossia reputazione con la regina ed esperienza. Quindi ragazzi, anche questo video volge al termine. Come al solito, spero sia stato di vostro gradimento, spero sia stato di vostra utilità soprattutto. Vi invito a lasciarmi il vostro feedback, a passare a vedere gli altri video dedicati alle taglie di Petravenger se ne aveste bisogno, sono tutti sul canale, ve lo ricordo. Da parte mia è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video sul casato dei lupi. Ciao a tutti!